Natale a Forte dei Marmi vuol dire tripugio di luci nelle vie e nelle piazze e addobbi spettacolari che regalano alla nota località turistica un'atmosfera veramente magica. Le celebrazioni prenderanno il via con il lungo ponte dell'Immacolata Concezione ed è ricco di eventi che aglieteranno cittadini e turisti. Natale al Forte è una iniziativa promossa e organizzata dal Comune per far vivere il Paese e valorizzare la sua offerta turistica. Abbiamo preparato una meravigliosa atmosfera, le luci di Natale in tutto il Paese, la filodiffusione che scalda l'atmosfera e un cartellone ricco di eventi. L'evento Club probabilmente è quello del 9 con il concerto del maestro Uto Ugi alla chiesa di Vittoria Puana con ingresso gratuito. Il giorno prima, quindi l'8, apriremo con il Jazz, il grande Jazz, in centro a Forte dei Marmi. Il 10 i fuochi di artificio e l'11 il gospel e poi il calendario proseguirà. Le costanti saranno senz'altro il villaggio di Babbo Natale e la pista di pattinaggio sul ghiaccio, 300 metri quadrati di pista di pattinaggio sul ghiaccio a 100 metri dal mare che si trova in Pineta Emilio Taravella. E il videomapping, la novità del calendario di Natale al Forte 2016, una proiezione architettonica veramente suggestiva sulla parete del municipio.